Non ne so molto, ma parola domanda. Lei dice che il ruolo del popolo ebraico è quello di mantenere i principi dell'ebraismo e mostrare l'unione ebraica? E che offrendolo come un esempio, questo creerà l'idea che gli ebrei sono una luce per le nazioni? Che noi dobbiamo... Non l'ebraismo. Dicendo ebraismo, la gente penserà che si sta parlando della forma ortodossa, dell'esistenza di Israele, ma questo non è ebraismo. Sto parlando dell'ebraismo inteso come ama il prossimo come te stesso. E se il popolo di Israele mantenesse quella connessione al suo interno, porterebbe la sua influenza come una luce per le nazioni e sua influenza conferisce quella parte di connessione a tutti coloro che si trovano intorno. L'antisemitismo si sta verificando perché non lo stiamo facendo, perché non ci stiamo connettendo, specialmente tra di noi, e quindi non possiamo essere una luce per le nazioni. Allora anche loro si connetteranno perché noi lo stiamo facendo. Loro non possono farlo, ed è per questo che il nostro mondo sta cadendo in una crisi globale dovuto all'egoismo umano, all'alienazione e all'odio tra le persone. E più ci immergiamo in questa crisi, più l'odio nei confronti degli ebrei non farà che aumentare, perché noi, attraverso la nostra mancanza di unione, stiamo causando questa crisi. Lei sta dicendo che il popolo ebraico, attraverso la sua mancanza di capacità, o mancanza di amare il prossimo, o di vivere questa parte dei valori ebraici, valori della Torah, è responsabile del riemergere dell'antisemitismo? Inequivocabilmente. Gli ebrei sono responsabili di tutti i problemi che si verificano in tutto il mondo. Come è scritto, tutta la sofferenza del mondo arriva solo per il popolo di Israele, poiché il buono stato del mondo dipende da noi, popolo di Israele. Siamo da abiasimare per il male e siamo in grado di rendere piacevole questo mondo. Allora, quale sarebbe la differenza tra la sua posizione e quella dell'Islam radicale, tra quella di Ahmadinejad o la posizione antisemita dell'Islam radicale, perché loro dicono la stessa cosa? Sì, il problema è la soluzione. La differenza sta nella soluzione, non distrugge gli ebrei, proprio per costringerli a connettersi. Grazie a tutti.